A quasi un anno dall'alluvione che ha colpito le marche il 15 settembre 2022 nel quale persero la vita 13 persone, questa mattina a Palazzo Raffaello a Dancona, sede della regione, si è fatto il punto sugli interventi messi in campo finora. Ciò che è emerso è che sono stati destinati tutti i 400 milioni di euro stanziati dal governo Meloni per il triennio 2022-2024, mentre parallelamente la progettazione e l'appalto delle opere strutturali complesse per la messa in sicurezza del territorio passa da emergenziale a strutturale. Questo significa che ci sarà un'accelerazione sui tempi e una minore burocrazia, grazie all'approvazione dell'ordinanza del 23 giugno scorso. Sicuramente le risorse messe in campo dal governo sono risorse che ci consentono interventi di natura strutturale sulle infrastrutture, ma non solo, con una progettazione diretta per la messa in sicurezza della Valle del Mese e del Neola. Noi avremmo sicuramente implementato, come avevamo fatto, stiamo facendo, l'attenzione nei confronti dell'assetto idrogeologico. È chiaro che la disponibilità e la quantità di risorse sono un elemento dirimente per tutte le amministrazioni locali. Le priorità sono quelle che vediamo quotidianamente nel ripristino di una situazione che deve essere in sicurezza, le priorità sono nel dare una risposta alle famiglie e alle imprese per i danni subiti, le priorità sono quelle anche di costruire delle infrastrutture, ricostruire delle infrastrutture che possono essere rispondenti ad una mitigazione del rischio maggiore rispetto a quelle che sono esistenti, che erano esistenti sul territorio. E poi c'è sicuramente la necessità di una manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua che purtroppo per tutta una serie di condizioni che si sono verificate negli anni sono in una situazione che assolutamente richiede un'attenzione particolare. C'è stata una prima fase d'emergenza dove occorreva mettere in sicurezza il territorio e ripristinare quanto era stato distrutto dall'alluvione, lì ci sono stati interventi per 13 milioni di euro da parte della regione Marche che è stato un intervento molto corposo in quelle primissime ore. Poi si è cercato di riprendere quello che era lo studio del 2016 che era stato solo dopo l'alluvione del 2014, c'è stato uno studio preliminare che prevedeva una serie di interventi strutturali che solo parzialmente negli anni sono stati realizzati. Quindi abbiamo ripreso quello studio, lo abbiamo ulteriormente ampliato, abbiamo provisto quindi la definizione di nuove vasche di espansione, oltre a quella di Bettolelle che stiamo, diciamo così, terminando, altre due vasche a monte di Passo Rip e a monte di Pianello d'Ostra, già finanziate e per le quali si sta procedendo con la progettazione, ma soprattutto in queste ore sono partiti lavori di straordinaria manutenzione all'interno del fiume Misa per 1 milione 800 mila euro. In queste prossime ore, ma quando dico prossime ore dico domani o dopo domani, partiranno altre sei somme urgenze sul fiume Nevola, sul fiume Cesano e sul fiume Burano. Come dire, comprendiamo tutto quanto l'alvio di quanto era avvenuto, diciamo, il 15 settembre scorso.